Buongiorno studenti e studentesse del Veronese Marconi, io sono Viviana Terzulli, la psicologa del punto d'ascolto, un servizio che anche quest'anno il vostro istituto ha deciso di offrirvi. Come funziona? Beh, molto semplice, trovate il mio numero di cellulare, mi mandate un messaggio, pronte a un appuntamento. Se siete minorenni al primo appuntamento portate anche il consenso informato firmato dai vostri genitori, ma a questo proposito vi ricordo molto importante il segreto professionale e la privacy, quindi tutto quello che verrà detto all'interno del punto d'ascolto rimarrà tra me e lo studente presente. Bene, detto questo, perché venire al punto d'ascolto? Beh, possono esserci molti motivi per cui si sentite di dedicarvi questa mezz'ora per voi. Innanzitutto possono esserci difficoltà a scuola o a casa con i familiari oppure con il gruppo di amici, con i morosi e le morose, ma non solo, può esserci anche voglia di mettervi in gioco, in discussione per conoscervi, capirvi un pochino di più o ancora per migliorare il vostro metodo di studio, mettere a punto qualcosina, imparare a gestire meglio lo stress da interrogazioni e da compiti. Tutto questo è uno spazio per voi. Io sarò presente una volta ogni tre settimane circa nei rispettivi istituti, da oggi praticamente fino a giugno. Perciò, anche se non da subito, magari durante l'anno scolastico avete voglia di dedicarvi un pochino di tempo, vi mando il tuo messaggio e ci vediamo. Grazie a tutti.